e bentornati a lezione con giuseppe fiori oggi mi vedete in mano un basso un po più piccolo del solito non è proprio un basso un ukulele io penso che sia un po l'anello di congiunzione fra il basso e il mondo della chitarra ecco nel senso che a quattro corde come il basso mi ci sono affezionato fin da subito ci tenevo in particolare a tenere una lezione su questo strumento che è stato uno dei miei tanti amori anche per spostarsi verso qualcos'altro che non è il proprio strumento io penso che alle volte ne valga la pena trovare una una seconda strada nella vita ecco in particolare forse l'avete riconosciuta la canzone che stavo suonando è uomo di plastica di rezzofonic e ve la voglio insegnare perché è molto semplice è formato da quattro accordi e se volete li vediamo insieme eccoli qua allora gli accordi sono sol minore fa maggiore poi abbiamo do minore e mi molle gli accordi li possiamo vedere nello specifico questo è sol minore molto semplice e intuitivo come un po tutto sull'ukulele fa maggiore questo do minore questo mi bemolle la canzone è formata da questi quattro accordi durante la strofa durante il ritornello per cui io vi consiglio di suonarvi uomo di plastica di rezzofonic durante i vostri picnic durante le vostre escursioni in montagna durante i vostri soggiorni al mare grazie per essere stati con me questo era l'ukulele questo era l'uomo di plastica di rezzofonic questa è la lezione con giuseppe fiori vi saluto ci vediamo presto sempre qui su rocker tv fiori vi saluto